E' la festa dello sport, è la festa dei ragazzi, è la festa dello stadio comunale di Porcari che diventa Academy Porcari Stadium. Oggi l'inaugurazione, il taglio del nastro al termine di un percorso lunghissimo, difficile perché ha messo insieme amministrazioni pubbliche e privato. Stefano Silla con la Porcari Academy e l'amministrazione comunale del sindaco Forraciari. E poi ci sono questi 300 ragazzi dell'Academy che questa sera festeggiano insieme al loro presidente quello che sarà il fulcro dello sport per la piana di Lucca, per Porcari e non solo. Tutto questo è stato fatto per il paese e devo ringraziare veramente il sindaco e tutta la giunta che ci ha dato questa grande mano perché senza di loro non sarebbe stato possibile realizzarla. Per oggi sono veramente soddisfatto perché ho visto la risposta del paese e hanno capito che questo qui è lo stadio di tutti. Bene, è un gioiello ed è un gioiello che brilla secondo me al di fuori dei confini del comune di Porcari. Un percorso iniziato nel 2018 con diversi incontri con la società sportiva e capimmo subito che l'obiettivo era sfidante, era molto ambizioso. E abbiamo iniziato a lavorare per cercare un percorso amministrativo non semplice che poi siamo riusciti a trovare. Un percorso amministrativo che salvasse il pubblico e potesse dare la libertà anche al privato di esprimersi.